Ciao mamma, ciao papà. Non avrei mai voluto farvi del male, ma purtroppo è andata sempre male e adesso è arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno quest'ultimo passo, per risparmiarvi almeno il dolore per il funerale. Mi raccomando solo una cosa, la più importante. Date una mano a Raffaella e alle bambine. Io non ci sono riuscito fino in fondo e restano ancora alcuni anni difficili. Questa è la lettera scritta da Adamo Guerra dieci anni fa ai suoi genitori, datata 11 luglio 2013. In quella giornata l'uomo lasciò altre due lettere dello stesso tenore nella sua residenza a Imola, una alla sua ex moglie Raffaella Borghi e l'altra alle sue due figlie, che avevano 12 e 16 anni. Ma in realtà era tutto un inganno. Per un decennio intero, Adamo Guerra aveva simulato la propria morte, al fine di fuggire in Grecia e ricominciare una nuova vita lontano dagli obblighi familiari e forse anche da alcune difficoltà finanziarie. Questa straordinaria vicenda è stata raccontata di recente dalla stessa ex moglie, in un'intervista rilasciata nel programma televisivo Chi l'ha visto. Sembrerebbe il racconto di una fuga avventurosa, un tentativo goffo di azzerare una vita complicata e iniziarne un'altra con il minor numero possibile di ostacoli. Tuttavia la vicenda si è ulteriormente complicata dopo la diffusione della notizia del ritrovamento di Adamo Guerra, aggiungendo ancora più mistero al caso. Secondo quanto riportato dall'agenzia ANSA, sembra che l'ex moglie fosse già a conoscenza da tempo del fatto che l'ex marito non fosse morto e si trovasse in Grecia. In breve questa notizia non le sarebbe stata sconosciuta. Tuttavia nel suo racconto avrebbe scelto di tralasciare questo particolare. La domanda che sorge spontanea è perché? La donna avrebbe poi fornito una spiegazione in un'intervista a chi l'ha visto, ma cerchiamo di esaminare gli eventi in modo ordinato. Adamo Guerra, originario di Lugo di Romagna, svolgeva la professione di rappresentante in Italia. Nel 2013, quando scomparve, il suo matrimonio con la moglie era già terminato, sebbene le figlie fossero ancora minorenni. La presenza delle figlie, tuttavia, non influenzò la decisione di Adamo di abbandonare tutto, simulare il suicidio e fuggire all'estero. Dopo la sua scomparsa e in assenza del corpo, l'ex moglie Raffaella intraprese una lunga battaglia per scoprire la verità. Desiderava sapere se Adamo avesse davvero messo fine alla sua vita, come sembrava emergere dalle sue commoventi lettere, oppure se gli fosse accaduto qualcosa di grave. Gli investigatori scoprirono, innanzitutto, che Adamo, partito da Imola, aveva raggiunto il porto di Ancona e si era imbarcato su un traghetto con un biglietto di sola andata diretto in Grecia. Alla luce delle lettere lasciate da Adamo, la prima ipotesi era stata quella del suicidio in mare. Come ha rivelato l'ex moglie, credevo che si fosse gettato giù dal traghetto. Tuttavia, questa supposizione non fu mai confermata. Di solito il mare restituisce i corpi, ma nel caso di Adamo non è emersa alcuna traccia. Nel 2015, a causa della mancanza di ulteriori prove, la procura di Bologna decise di archiviare il caso. Ma nel profondo del suo cuore, Raffaella era convinta che la verità dovesse ancora venire alla luce. Come ha spiegato? Io non mi arrendevo all'idea che Adamo fosse morto. Anche i carabinieri mi dicevano di andare avanti. Allo stesso tempo, però, non credevo che un papà avesse il coraggio di andarsene. A questo punto, il racconto dell'ex moglie ci riporta direttamente ai giorni nostri, quando la procedura per formalizzare il divorzio sembrava subire un rallentamento a causa di questioni burocratiche. L'avvocato di Raffaella aveva quindi cercato di indagare ulteriormente sul caso per comprendere la causa di questo ostacolo. Secondo questa narrazione, la verità sarebbe emersa in seguito. Come ha detto la donna? L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era affatto morto, ma era vivo. Nel febbraio 2022 aveva fatto richiesta all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per essere inserito come cittadino italiano residente in Grecia. In quel momento Raffaella condivise la sua storia con Marisa degli Angeli, la madre di Cristina Golinucci, una giovane di 21 anni scomparsa da Cesena nel 1992. Marisa, in veste di rappresentante dell'Associazione Penelope, ha offerto il suo sostegno a Raffaella nella sua battaglia. Successivamente, un inviato del programma Chi l'ha visto si è recato in Grecia per cercare Adamo. Con l'aiuto delle informazioni fornite dall'ex moglie, è stato possibile confermare che Adamo Guerra è effettivamente vivo, lavora come dipendente presso un servizio di noleggio auto e ha costruito una nuova vita in quel paese. Quando il giornalista si è presentato, Adamo ha reagito con fastidio. Ha dichiarato andate via, non dite nulla, spegnete tutto e andate via. L'ex moglie ha commentato in modo rabbioso. Dieci anni sono tanti. La testa è sempre lì perché hai una speranza. Quando ti chiamano per dirti che è scomparsa una persona, si entra in un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non si può certo dire che sia un uomo e neppure un padre. Tuttavia, sembrano emergere alcune omissioni importanti dalla versione dell'ex moglie. Dopo la pubblicazione della notizia, alcune persone hanno sostenuto che Raffaella potrebbe aver scoperto della vita segreta di suo marito non tramite l'iscrizione di Adamo Guerra nel registro degli italiani all'estero, ma ben prima, nel 2016, quando è stata notificata del ritrovamento dell'uomo in Grecia. In effetti, secondo quanto riferito dall'agenzia ANSA, già nel settembre 2016 Raffaella aveva presentato una denuncia presso i carabinieri, accusando l'ex marito di aver violato gli obblighi familiari relativi al sostentamento delle due figlie. In quell'anno Adamo si trovava a Paleociora, sull'isola di Creta, e avrebbe dichiarato che non aveva alcuna intenzione di tornare alla sua famiglia. La domanda sorge spontanea. Perché Raffaella non ha menzionato questo aspetto rilevante nella sua prima narrazione? La trasmissione chi l'ha visto ha condiviso alcune dichiarazioni che potrebbero spiegare questo punto. Dopo una segnalazione di Adamo in Grecia, ho contattato nel 2019 e nel 2021 il consolato italiano ad Atene, per avere conferma della sua presenza sul territorio greco, e mi è stato risposto che lì non c'era nessuna traccia di lui. La trasmissione ha reso pubblico anche la copia dell'email che Raffaella Borghi ricevette il 9 agosto 2021, direttamente dal consolato, in cui si affermava che non erano disponibili informazioni riguardo al suo ex marito. Purtroppo dobbiamo confermarle, a seguito di verifiche fatte sui nostri database, che non abbiamo tracce del signor Adamo Guerra, che non risulta neanche mai essersi rivolto all'ambasciata. Marisa degli Angeli, madre di Cristina Golinucci, si è schierata in difesa della donna. Senza le telecamere della RAI non avremmo saputo più nulla, sono dalla parte di Raffaella, che in questi anni ha vissuto dentro a un terribile incubo. Quell'uomo è stato particolarmente crudele. Effettivamente, indipendentemente da tutto, sorge una domanda naturale. Com'è possibile che Adamo Guerra, in un periodo di 10 anni, abbia praticamente ignorato completamente le sue figlie? Nel frattempo è addirittura nato un nipotino, e Raffaella, la sua ex moglie, ha condiviso con gioia questa nuova aggiunta alla famiglia. Tuttavia, sembra che Adamo avesse preferito rimanere nell'ombra, come ha sempre fatto.